Ci troviamo nella Piana di Fondi, siamo ad inizio giugno e cominciano le raccolte del pomodoro ciliegino. In questo areale importante di coltivazione Vilmoren propone diversi prodotti su questa tipologia e questa è una delle novità che si sta affermando sul mercato. Si chiama Delicco, questa varietà ha delle caratteristiche particolari. Una di queste è quella di avere un alto brix e quindi un ottimo sapore. Altri punti di forza risultano essere la produttività, come potete vedere questa pianta ha un giusto vigore, con grappoli ben conformati all'isca costituiti da 20-22 frutti. Colore bello rosso vivo, brillante e un altro degli aspetti importanti che caratterizzano questa varietà, è una long life del tutto ragguatevole. Questa è una varietà che io ho già provato l'anno scorso in diversi trapianti da inizio febbraio fino a marzo, inoltre ad aprile e ha risposto bene a tutti i trapianti l'anno scorso, maturando bene fino sopra senza problema di cracking, colorazione rosso intenso e quindi quest'anno ho messo tutta quanta questa varietà qua che mi sono trovato molto bene. In questa azienda potete osservare la nostra varietà Kaori, una varietà top di gamma che si sta affermando in quanto presenta delle caratteristiche particolari. Prima tra tutti di avere un grappolo lungo costituito da 20-22 frutti di pezzatura intorno ai 18-20 grammi. Questa varietà ha anche la capacità di biforcare i rami, come potete vedere in questo caso, e di quindi aumentarne la produttività pianta. Colore rosso vivo, molto lucido, molto brillante ed è per questo che viene molto apprezzato dal mercato perché appunto la qualità estetica, la conformazione del rachide molto elegante, il colore rosso vivo e brillante fanno di questo prodotto, diciamo così, un prodotto veramente d'eccellenza. Altro aspetto importante da tenere in considerazione è di avere un pacchetto di resistenze genetiche alle virose importanti. Ho fatto questa prova piantando ai veriti di febbraio, inizio di febbraio. Come colore, come pezzatura, sembra ottimo. Come resa è molto positivo. Stiamo sviluppando un nuovo ibrido di pomodoro ciliegino dal nome Primello. Quest'ibrido risponde appieno alle esigenze della filiera perché ha delle qualità. Ha un colore rosso intenso molto brillante, un buon sapore e gusto ed un'elevata resistenza a cracking. Ma ciò che desta interesse tra i produttori è la velocità del ciclo produttivo e la notevole precocità di maturazione.